Un flash mob di protesta per non far spegnere i riflettori sulla situazione dell'ex zuccherificio di Castiglion Fiorentino e sui progetti di riconversione che vede da sette anni i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e senza nessuna certezza. È quello messo in scena da 50 lavoratori dell'Eridania Sadam di fronte al comune di Castiglion Fiorentino, visto che, tra le altre cose, la conferenza dei servizi tarda a prendere una decisione definitiva riguardo alla valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di riconversione presentato da PowerCrop. La regione ha fatto un provvedimento in cui dice che entro 180 giorni dovevano esserci delle decisioni. Noi aspettiamo quella, aspettiamo un sì o un no. A giugno finisce definitivamente la cassa integrazione. Questa è una città che ha bisogno, questo Paese ha bisogno di occupazione. Qui ci sono delle risposte occupazionali. Se i progetti presentati dall'azienda rispondono a valutazioni di impatto ambientale positive, dicano sì allo stabilimento. Se sono negative dicano di no. Per ottenere in stallo questa situazione veramente vuol dire voler ridurre i lavoratori in mutande. Ci siamo vestiti in mutande proprio come provocazione di fronte allo stallo istituzionale. Purtroppo anche l'ultima riunione della conferenza rischese dei servizi, quella di novembre, di fatto non ha sulla questione arrivata nessun tipo di conclusione, rinviando il tutto per il prossimo mese di gennaio. Faccio presente che, come ha ricordato lei, il progetto è stato presentato oramai da più di un anno e ancora risposte non ci sono.